Ascolti TV, chiude bene che Dio CGF VIP sempre più in basso. Ancora una sconfitta per la settima edizione del Grande Fratello VIP contro che Dio ci aiuti. La fiction Rai, con protagonista Francesca Chillemi, ha appassionato 4,254,000 spettatori con il 22.7% di share. L'ultima puntata è stata molto commentata anche sui social network, l'appuntamento è ora con l'ottava stagione, già in lavorazione. Cala, invece, il reality show di Alfonso Signorini su Canale 5. La serata che ha decretato Michelin Curvaia seconda finalista di quest'anno è stata seguita solo da due. 472,000 spettatori, 19,10%. Un calo evidente rispetto alle settimane precedenti per un programma che si avvia alle sue battute finali, 3 aprile ultima diretta. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti TV del Prime Time di giovedì 16 marzo 2023. Grazie a tutti i dati relativi agli ascolti TV del Prime Time di giovedì 16 marzo. Grazie a tutti i dati relativi agli ascolti TV del Prime Time di giovedì 16 marzo.